Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Battletree, l'ospite di oggi è Shairabha Ciao Allora, oggi non ho bisogno di presentarti, anzi nel caso avresti bisogno tu di presentare a me Andremo a provare un team abbastanza famoso di cui trovate il record su Trainer Tower, è linkato qua sotto E lo analizziamo un attimino prima di giocare e poi facciamo due partite Allora, il team è di Gabriel Agati che ha fatto top 4 all'International di San Paolo L'unico brasiliano tra l'altro a fare top 8 se non mi ricordo male Il team è composto da Tapobulu, Arcanine, Polited, o Politoed, Porygon2, Mac e Salamence Diciamo non lo standard team di questo metagame Soprattutto Salamence e Polited Polited in particolare non è il Pokémon di questo metagame, diciamo, non è il reinsetter di questo metagame Esatto Anzi, però penso che avesse un po' di problemi con Eevee perché questo Polited gira con AIDS Giusto E Arcanine non ha Protect Poi altre stranezze del team, per esempio Tapobulu non ha Z, la Z ce l'ha su Salamence e Tapobulu c'ha la Baccona e ha Lich Seed È un Celestino Sì, esatto Salamence ha Z volante, fisico, con Dragon Dance, volo e terremoto Con Tapobulu nel team Esatto, vabbè, quello ci sta, ci può stare perché si cambiano il campo, fai terremoto E Mac come quarta mossa a Flamethrower e a Gangshot non Poison Jab Vabbè, vuole ottimizzare i danni E Porygon2 ha Toxic come quarta mossa Vabbè, Ice Beam, Brecover e Trick, non sono obbligatorio Comunque, gioca, gioca pure Ok, iniziamo subito Allora Tra l'altro nel frattempo che cerchiamo, non so se ti trova la partita Arcanine a Morning Sun come quarta mossa e a Willow Wisp e Snarl Nonostante non sia Ok Non so se non sia un Pokémon veloce, diciamo così Non sia molto veloce, ok Aiuto Allora, sappiamo già cosa fa questo team Lo sai anche tu, penso Allora, Smirgoth a Water Shuriken su Palossan Ed è un casino perché questo team Allora, penso che sia il miglior Pokémon da giocarsi bene Perché batte quasi tutto Sì, sì È tolto È tolto È tolto È tolto È tolto È tolto Esatto E Garchomp si ha poison E bisogna shottargli Palossan subito E allora, Mak No, no, per la petta Il busto lo prende in difesa, sto animale È vero Vabbè, io partirei di Flenium Z Adesso è mello shott Eh no Perché si busta la difesa Ed è in priority Ah, perché è in priority Si busta la difesa E molto probabilmente fa anche Amnisha Che è Un'altra mossa Che gli busta la difesa speciale Io partirei Polite Quasi quasi Un bel scatto Un Brish, un Songone Un Ezone Eh no Puoi fargli AIDS diretto Esatto Gli fai AIDS E la mossa erba con Bulu Dietro ti porti Secondo me Poi Siamo in due Ragioniamo in due Sì Mak O O Porygon Potrebbe essere Sì Per Garchomp Anche se c'è Bulu Ragioniamo come battere Allora Mak batte Nilego Però Nilego batte tutto il resto Prane e Porygon Ok ci sta No va bene Secondo me va bene Va bene Anche se Salamence con terremoto Forse per Nilego ci sta Eccolo Ah però Smirgol Nilego Vuoi vedere che questo Nilego Fatalic Io gli sparo uno scald Che dici Allora Potrebbe fare anche spora Ricordati che spora Subulu Non va Però ci va sludge bomb E se fa spora sludge bomb Diciamo che è un po' Posso 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 Potrezzare E buttare Mock Sì Chiaro Poi il turno dopo Deve decidere Che addormentare Sì Secondo me Ci può stare Chiaro Questo team è fatto di Mosse safe Switch Continui Eccetera Ah fake out Ok Va bene Life form tra l'altro Il che vuol dire Cose buone Perché vuol dire che Moreno in colpo Solo in due Anche se il grassi terreni In realtà lo riporterà Vita piena Al prossimo turno Detto ciò Potrebbe anche non avere spora Visto che ha fini nel team Non ci ho pensato Esatto Io comunque farei Scalde e knockoff qua Sì Tutto su Nilego Tanto comunque Smirgol Tendenzialmente Va a fare follow me Se ha Normalmente Poi oddio Smirgol In questo metagame Si gioca Prevalentemente Lui forse Ha fatto fake out Perché aveva paura Che fossimo scarpati Sì Anche Vero Allora In generale Qui Un suo buono switch Potrebbe essere fini Però Caccio Va bene Ce l'ha Vediamo se ha la z No Cioè sì Sì Non ha perso Lo strumento Alla z Non ha ice beam Questo polited Vero Potresti fare Su which Is Esatto Pensavo a quello E attaccare con polited Fare addirittura Scald Fai scald A parte che Sì Potresti svegliarti Il turno di sleep È già fatto Ci può stare Su Garsham Sì Perché se lo scotti Molto bene Probabilmente Smirgol Va a fare Spora Qua Però Meglio per noi C'è nel senso No Buono Ok Perfetto Adesso C'è da capire Se quel Garchomp Ha poison job O se scarpe Eccetera Io farei Scald protect Bene Aspetta Fammi fare due calcoli Vediamo se Bullu Regge Ma anche un Porygon E più che altro Non vorrei farmi Addormentare di nuovo Anche Porygon Ci sta Però poi Sei sempre più lento Di Smirgol Quindi C'è Il punto è Non fargli mettere Tranquillamente Ananna Tutti i tuoi pokemon Ecco Diciamola così Bullu è la chiave Qua perché non può essere Messo Ananna Però Va Giù da Nilego Adesso sto guardando Un attimino Garchomp E Tapu Bullu Questo Tapu Bullu Mi pare avesse 180 Di Vado a vedere Nel team builder Ma Roba che teoricamente Non si fa durante Una parete ladder Così bassa Però No 76 Giusto per 76 Più Quindi Ok Ok E 18% Monit Kios E max attacco Però Se hai un po' Di danno Io dubito Che abbia Posso un jab Addirittura Io dubito Che non sia Scarf Però Io faccio Ornalice Su smirgore Vai Tapu Ah Adesso Dai Bullu No Però C'è preso il turno Di sleep Di nuovo Più che altro Non c'è il terreno Quindi questo Avrebbe Cioè Con Vdammer Questo avrebbe Tirato giù Però Io gli riscaldo Garchomp Io farei Protek Però Con Polito Con Bullu Ah con Bullu Sì O magari anche Un po' di con dentro C'è la pioggia Non vorrei Che poi Tirasse Muddy Water Facesse Quello che Finita A fare di meglio Ovvero Droppare Droppare La calura Sì Perché altro Non può più Scottare Garchomp Questo è la cosa Comunque sì Vai Porygon è un buono switch Però anche Protek È al massimo Lo switch Il turno dopo Così ti svegli Con Porygon Il turno dopo Attacchi Ok Switch Vediamo Ha rifatto La seta Crit Probabilmente Porygon Lo reggeva Notare che Adesso hanno aggiunto Le Misty Terrain Quindi adesso Si può vedere Yeah Le grafica Beh allora Adesso O Porygon Anche Mac Mac Eh proteggi E Proteggi Ah no Petabullo È già protetto Però Vero Non metti Porygon Faccio Beam V-Dimer Su Garchomp Già E Hornich Di nuovo Su Smirgol V-Dimer Su Garchomp Questo fa Fake out Posen Già Probabilmente Adesso E possiamo Buttare Mac Così Nel caso Rientriamo Ah si C'è Mr. Ray Non può mettere Di dormire Che lo sto Dicendo Ok è vero Vai 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 Mac sicuro Anche perché Poi è obbligato A fare terremoto E se tu switchi Di nuovo Dentro Bulu Per esempio Non ti fa niente Nilego Buono Wake out Ok era giusto Così Adesso Non ti può impedire La Triccrum A meno che Non l'abbia Su Nilego Ma Io farei Knockoff Su Nilego E Triccrum Nilego Comunque Le Forbe Dubito Fortemente Che abbia Triccrum Sì No Dubito Anche io Penso che Normalmente Nilego Le Forbe Gira Con Power Jam Sludge Bomb HP Ice Protect Esatto Però Mai dire mai Io ho visto Nilego Che reggono Terremoti di Garchomp Quindi Quindi Non si può mai dire Comunque Il crit Di Tectonic Rage È stato brutto È bruttino Perché più che altro Polite dà la bacca Già E quindi si riprendeva La bacca Adesso io non so Quanto Effettivamente Fosse investito Quel Garchomp Ma Ok Il lache danni Uh Beh Ottimo Ottimo Che l'abbia detto Ora Garchomp Muore Ice Pin su Garchomp Avessi Curse Farei Curse Ma siccome non ce l'hai Fai knockoff Su Nilego E qui la ribaltiamo Bello questo team Ci sono un sacco di switch Aspetto il momento giusto E poi Bam Lo incuro Esatto Il punto sta nel non aver fretta E nel saper sempre Mettersi davanti Poi io ho giocato tre partite Fa 2013 Questo team Te lo dico Ah io nel 2013 Non giocavo Quindi io ho iniziato A giocare con il nazionale 2015 Comunque sì Questo Porygon dovrebbe Shottare quel Garchomp Ma almeno di investimenti Molto strani Ma Ok Doppio che io Yes Buono GG No aspetta Ah sì adesso rimette Fini Non ti può tormentare Comunque ti Tirerei giù Prima Smirgol Nel caso Aspetta Non ha Moody È vero Me ne sono accorto Ma mi sa che non ha Moody Non ce l'ha Molto bene Vai Allora fai quello che vuoi Aspetta Allora Fini si è preso I leftovers Sì Ok non ha la bacca Quindi boh fai anche I return Oh no i toxic Quindi boh ice beam su smirgol Sì esatto Poi sono già di là Tanto adesso fa calm mind Non mooblast diretto Wow Vabbè non è un problema Fai Tira giù smirgol Guarda fai così Tira giù smirgol Ice beam Gunk shot Sì esatto Penso che max è più lento in realtà Se fa colo mi se lo prende Se lo prende smirgol Però beh Poi proteggi con bulu O attacchi direttamente Gebulu non te lo shot Sembrava un miss quello Ti giuro che mi sembrava un miss GG Bella Bella E nell'ultimo torneo che hai fatto Tu sei andato a Treviso giusto? L'ultimo è stato a Milano in realtà Ok Ho fatto 5-0 5-2 Senza GB Sì vabbè Quello è stato clamoroso E poi a Treviso hai fatto top cut Con che team? Allora Col team di Silvestrini Tra l'altro me l'aveva mandato Me l'ha prestato una settimana prima Ma qual è quello che abbiamo visto Anche giocare a Gavelli A Ieri? Sì Più o meno Lui ha un po' di roba diversa Lui ha A Mac Mi pare su Su Gigalit E io preferisco giocare a Gigalit Perché Stesso motivo per cui Gigalit era uno dei team Che stavo proponendo per oggi Perché con la Z Shot a Snorlax Ah adesso Ecco ho trovato la partita Arrivo Eccomi Snorlax Circa 9 Celestila Tapu Koko Nine Tails Garchomp Questo è simile Questo è il team di Che sta giocando a Wolfie Glick Ultimamente Ma questo team L'ha usato tipo David Cognetta Anche Anche Sì ma questo è il team Allora Se è lo stesso team Ti dico gli strumenti tutti A partire da Snorlax Baccona Baccona Leftovers Z Sash E Scarfe Scarfe Sì Garchomp e Scarfe In generale Salamence non è una brutta Salamence Porygon Alla vecchia Salamence che è seria Salamence Porygon Ricordi che è di Dragon Dance Anche quindi Puoi gestirla bene con quello C'è il Ninthreads E allora Quelle è Sì Ninthreads È un po' un problema Però Io porterei comunque Arcanine Bulu no Mac Secondo me batte Allora Bulu gli dà problemi Salamence Mac Come leading Eh Salamence Mac Non è male Poi attira lo switch Indice le stilo Sicuramente Con dietro Arcanine Esatto Abbiamo Lo switch Arcanine P2 Oppure Arcanine sicuro Perché se no Celestino lo tiri giù Con i Santi E basta Non so se Bulu sia proprio il Pokemon Miglior da punta Perde un po' da tutto Però vince un po' con tutto Perdiamo un po' da Garchomp Però è scarfato Fortunatamente Devi capire solo Cosa si scarfa Normalmente E poi Porygon è un buono Cioè Porygon è difficile da gestire Per quel team La È comunque Sì Deve sempre fare doppi target Eh ma abbiamo solo Ice Beam E Toxic Non abbiamo neanche Tanto E Toxic gestisce bene Anche Snorlax È vero Eccolo infatti Cocos Snorlax Ah beh Va bene È una bella leading Va bene Tu Hai Knock off libero Su Snorlax E un Dragon Dance Cos'è da Zinglim Ma Da Zinglim Salamence Regge Aspetta che Sul Cosa C'ha fatto Intanto ti dico Oh Cristo Gli spari il frenium Z A questo snorlax Sì 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 Assolutamente Vai subito E già che ci sono Io faccio Gank shot Io lo farei su Coppo Non lo shot poi il frenium Aspetta Andiamo a calcolare No perché poi magari Lo shot con Salamence Allora il gank shot Va sul topo Coco Quello È vero Potresti anche fare Knock off per sicurezza Perché questo Coco Che ha fatto Skydrop È molto a V Secondo me Ma molto a V Eh però il knock off Rischia di non uccidere Allora Salamence Mi pareva fosse Adamant Adesso ti faccio il calcolo In tempo reale Adamant 252 Ok A più uno Con Fly The Sky Adamant Z Fly Tra l'altro Z Z Volo Che Non lo date più Per il resto La partita Super Sonic Sky Strike E lo shot A Snorlax Adios Snorlax Adios Adios Sing Boom No No Vabbè Gangshot E misto sempre Vedi però Aspetta Per ridirlo Vuoi fare protect Terremoto Sì No Sì La sciotta No forse no Però se tiene quello di Garchon Magari tiene pure quello di Salamence Spesso che non è stab Però Tabu Coco Avibo No vabbè morto Va bene Oh cristo Questo È un problema C'ho flantraver Su Mach Zio Sì no Non è quello il problema Il problema è quei Garchon Fai Non si può proteggere No Non è scatto Ok Vabbè Adesso protegge Va bene Tu fai Tu fai Recogo Puoi fare anche trick Non volendo Se Oddio Salamence Un po' troppo veloce In canto Però Non sa su chi l'hai fatto Oddio Se sei intelligente Sai che l'ho fatto su Garchon Puoi fare le cover Quello sì Tanto Garchon E anche Arkham Indietro ricordo Non muore in un colpo E c'è le stila Gli fa un sacco di danno Non ha protetto Va bene Farò Slide In Q No Ho fatto doppia hit Su Poligar Ok Va bene Special attack La colce le stila Molto veramente è AB Ah canai Sì Fai alta A Dragon Dance Salamence Fai Service Celestina Ma non gli faccio Cioè Cosa mi serve A Dragon Dance Il turno dopo Fai Più che altro Perché cosa puoi fare Fai volo Sì Celestina però Su Garchon Così tu no dopo Proteggio per forza Va bene Ci sta Però io Proteggio Che GG Eh sì Adesso è finita Infatti ha forfettato Fatica Fatica Non è mai facile giocare Già Però è un bel team Vuoi fare la terza Se vuoi fai la terza Non c'è problema Questa puntata Non la taglio di niente Metterò tutti i momenti Ok Trovata Pino Grezzo Ganger Cartana Tapu Buber Canine Porygon Pelipper Allora Mirror Di Bulu Di solito Mach mi sembra D'obbligo E mi sembra Che Mach In generale Sia un ottimo Team Con un po' di Vagano Cosa su team Knock off Porygon Per esempio Flametraver Cartana Flametraver Per Cartana Tra l'altro C'è anche lui Rain Quindi Penso che non shotterà Però va bene Vabbè A meno Per Ci sta Se a V no Se a V no shotterà Ma non shotta forse Neanche sotto Senza sole Cioè senza pioggia Però Allora No Perché lì dopo un po' Arion No Ma io direi Direi che Arcana È una buona lead Stiamo ridando Arcana Contro un Rain Però Arcana e Mach Eh Arcana e Mach Non è brutta Dietro Bull Porygon Soffriamo un po' Arcanai Sì ma se lui Ma non penso Che lo porti neanche Effettivamente Però non so mai Ha paura magari di Bull Ah Bull C'è lì Se lui porta Rain Automaticamente Il tuo Arcana Diventa fortissimo Cioè se lui Non porta Rain Se lui porta Rain Il suo Arcana Diventa inutile Perché non fa danni Ottimo Esatto Gangar Non ha portato Rain Ok allora Il suo Arcana È più leggero del tuo Sai che farei Protect No con su Arcana Su Arcana Perché tanto Gangar va via Non solo perché No potresti Arcanine Non ha protect Ah c'hai ragione Che brutto Arcanine Will Vai snarl Ci sta E non Su Arcana Ok Va bene Te Bulldoze Non Penso abbia così tanto C'è Penso che sia più utile Questo Snarl In effetti Via la bacca O AB O AB È AB Ok Adesso fai Knockoff di là E altro snarl Dici Eh sì Questo team è fatto per Per Snarl Sì Arcanine pian piano muore E Entra Bulldo e facciamo Man bassa Sì Di occhio Sludge bomb Tutto lì Sì Ok c'è Toxic Pure lui Fuori questo Io sparo il blizzone Su Porygon Io tirerei Allora lui farà flare blitz di nuovo Su Arcanine Cioè Scusami Tu dietro hai Arcanine Ok Allora spiego il motivo di questa mossa E non farsi fare Toxic Tanto Porygon reagge con recover eccetera Adesso fai flare blitz su O fai Oddio potresti anche Io faccio recover Eh? Io faccio recover No potresti anche fare Toxic sul suo Porygon E mettere dentro M.A.C. Vero Blitz Ok Visto quanto non fa niente Adesso fai Disperato Fai recover Porygon la vince da solo questa partita Sì Vedi ti ho detto Bastava dimezzare l'attacco Mi faccio gank shot su Porygon Fai knock off No vabbè fai gank shot dai Va bene rischiamocela Uff Ah era Tai in realtà Ok no Se vinceva la Tai era un po' un casino Miss Va bene Altro recover Altro gank shot Siamo a Un gank shot Su tre Eh 33 Non lo sapevi L'hanno cambiato da cura si da poco Io faccio ancora recover E faccio ancora gank shot Quanto odio Da zitta Mancata sinistra Va bene va bene Allora fuori con la vince comunque da solo Vabbè Alcanine che tanto c'ha slagg Esatto E doppio su ganker Trick room Trick room Non lo so Potrò fare blitz Mi piace Hai ancora la bacca da attivare no? Ja papa si Ok allora La cosa che può andare male è quel ganker z Che ti shotti arcanine però Però la vedo dura Eeeh Io farei doppio su ganker onestamente Beam blitz Allora chiaro che è ovvia però Slash Eh bacca Ciao bello Yeah Adesso ha tirato giù tiball di nuovo su Porygon infatti Ma adesso tra l'altro non può più togliere il drop in special attack Cosa bella che farsi willowisp su Porygon sia stata la giocata Ok adesso Giocatela soltanto bene con Cartana Proventi shot arcanine qua Devo fare trick room Fai trick room e flare blitz su cartana Mi farà recover e tirerà danno su arcanine subito No Va bene Va benissimo Porygon non c'è shot arcanine e cartana muore Esatto Doppio su cartana DG Penso Ciao Tra l'altro lui c'ha il drop in speed Mi stavo preoccupando prima della spit tie con i Porygon Quando ero poca vita ma in realtà Non serviva Che danni Questo non è abito Decisamente Decisamente Non Vabbè Essentra burro Spare un W'dan merone di quelli Che si lo ricorda per due mesi Io voglio che muoia di Di toxic Quindi Ma fa gli lissi No Vabbè dai ci sta Comunque non Il team è valido È molto valido Mi aspettavo molto peggio invece È una bomba No il team è buono È semplicemente A me non piace giocarlo Perché è veramente basato Cioè È come gioca Dave Ok È come gioca Dave È molto basato sugli switch È molto basato sul Sapere esattamente Qual è la tua win condition Sapersela giocare bene Sapersela giocare nei tempi giusti Con i modi giusti Saper mettersi in una posizione giusta E saper Poi sweepare O comunque andare a Debilitare il team avversario Che funziona Però devi essere uno con Due spere poche e grandi così Eh sì ma no no Non è il team che userei mai Io sono uno che fa i danni Che cazzo è meglio Che cazzo è cosa Se psicologicamente riesce a reggere un torneo Fatto di best of three In cui devi calcolare tutta la perfezione Bang bang Ma se devi fare 20-30 partite in un giorno Arrivi alla sera Che hai bisogno di avere un team più facile Perché risparmio di energia nella Swiss Sei più fresco e risparmio di energia Anche nella fase successiva della torta Sì Quello sì Beh dipende Dipende da che tipo di giocatore sei E quanta energia nervosa hai Ma io francamente Mi sono ritrovato a giocare Tutti Cioè nel 2013 Avevo fatto top cut in Germania E c'è un team solidissimo L'anno Nel 2015 Ho fatto top cut E invece non era Non era solidissimo Era un classico Kangaria Tranne Vabbè quello che giocavo anche io Dai Chi è che non giocavo a quel team Però se vuoi con Tailwind Quindi era molto aggressivo Cioè io ruoto alla fine Però Cioè bisogna anche pensarci Se non sei allenato O non sei Dave con niente Sì in generale Questo è Il motivo per cui Io non gioco mai contro Dave Perché Dave mi da sui nervi Quando gioca Perché fa Continuamente switch difensivi Continuamente switch migliori Cioè lui è come se fosse Lui si vede che gioca anche singolo Gioca molto E quindi si vede che È abituato a giocare safe E non ha A rischiarsi mai la giocata Avete visto anche gli streaming Sia di Londra Che di Quello illegale Che hanno fatto Per la Melbourne Eccetera eccetera Però Insomma lui è È un ottimo giocatore Spiace tanto che sia uscito quest'anno Perché secondo me Meritava anche gli anni precedenti Ma Eh vabbè Però è stata una bella sorpresa Alla fine Sì ma Tra l'altro Era il giorno prima Aneddoto Che non Ho raccontato a me Un paio di volte in giro Allora Era il giorno Il giorno di Londra Mi pare Lo stesso giorno La mattina E lui era tipo in coda E non sapeva cosa mettere Ma gioco Tapu Coco O Tapu Lele E andava in giro A chiedere alla gente Ma gioco Tapu Coco O gioco Tapu Lele Gioco Tapu Coco Ah tutti gli hanno detto Ma gioca Lele Non giocare Coco Perché era Era ancora il periodo in cui Ah ma Coco non fa danni Poi è vero che Coco non faccia danni Però li fa E allora Alla fine ha giocato Lele E poi hai riuscito a fare Due top Due Con cinque Pokemon Cinque finali Con cinque Pokemon Sì sì Vabbè lui è Ma in realtà Giocare con cinque Pokemon Alla fine poi Potrebbe essere anche un vantaggio Più per te Che per il tuo avversario Perché il tuo avversario Sa già Questo qua porterà questi Pokemon Quindi sei Già più tu Nella mente Il fatto che hai questi Pokemon E quindi devi giocare con questi Pokemon Il tuo avversario Dice Ah ma sì Questo qua c'è Cinque Pokemon Mingo facile Però è vero Se ti va come Yoshi Che aveva il Gastrodon E la gente gli portava Milotic Metagross Sì 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 Beh anche Anche vinci Allo special di Milano Adesso vinci guerra Gli hanno tolto Tapu Lele Perché aveva messo Taunt al posto di Thunderbolt Sulla team list No lui se ne ha accorto Gli ha detto E' andato a dirglielo Ho detto guarda che io c'ho Ah ok è onesto Se ne ha accorto a lui E' proprio andato diretto Perché pensava Magari dice Vabbè mi danno game loss Mi danno magari mi danno Loss ma non mi tolgono il Pokemon E invece quindi ha tolto Quei il Pokemon E ai ragazzi Impariamo a scrivere Sì è vero è vero è vero è vero E poi ha droppato su 2-1 Perché chiaramente Non puoi giocare Senza sta volendo Dai allora Shai Io ti ringrazio per questa puntata È stata davvero una puntata bellissima Siamo riusciti a ragionare molto Su tutte le mosse In ogni momento Quindi è molto ricca In ogni istante questa puntata Quindi grazie mille E bom Ci rivedremo Ci rivedremo tra poco Perché in realtà penso di Fare uno switch di canale In realtà porterò anche io Lui sul mio E magari giochiamo questo Bella così Facciamo parte 2 Facciamo parte 2 Comunque mi raccomando Bella Biccioni e iscrivetevi alla pagina Facebook Di Battletree E mettete mi raccomando Mi raccomando Seguite i prossimi video di Lorenzo Che E visto che ho ben 127 iscritti Tutti voi iscrivetevi al canale di Shai Ciao Arai È vero Ciao a tutti Ciao ciao